Benvenuti a San Marzano. Mirard Resemmarzane. Qui a San Marzano si parla ancora la lingua Albrecht. Questa lingua è la testimonianza del nostro passato. Ho imparato il mistero da bambino proprio. È un'officina fondata da 30 anni fa da me, classe Camillo. Quello che c'è qui dentro qua è tutto fatto da me. Grazie a tutti.